Si va veramente in una condizione di non si sta guadagnando ma si sta rimettendo, quindi questo è quanto, altrimenti uno decide di chiudere la serranda e provare a chiedere la cassa integrazione per tutti i nostri dipendenti che così aggraverà ancora nello Stato. E quindi funziona così? Per noi no, noi lottiamo fino in fondo sperando che qualcuno senta questo e ci dia una grande mano. Arriva forte e chiaro l'allarme da parte della categoria dei panificatori per il nostro settore, non ci sono tutele. Per adesso sinceramente la cosa che più ha fatto male probabilmente a chi come noi lavora nel campo e quindi soffre direttamente in prima persona è l'assenza completa di una parola da parte di governi, sindacati perché non è stato aperto un tavolo di crisi, she's the wheel. Io non ho mai sentito nessuno prendere una posizione netta politica contro questo modo di agire. Il pane comune anche ad Arezzo è ormai arrivato a sfiorare i 4 euro al chilogrammo, il caro bollette ma anche il costo delle materie prime sta mettendo a dura prova un settore che adesso chiede aiuto al governo centrale. Anche io ho sentito di paniche a 4 euro, solo che oggi le famiglie purtroppo, gli stipendi sono questi se noi aumentiamo comunque il pane che per le persone ci vuole perché è un bene di prima necessità si cerca in qualche modo di contenere quindi il costo, ma non ci si fa perché con questo caro bollette ci ammazzano.